Alessandro tra cui il tuo come quello che poteva essere più vicino alle mie corde poi fu grande sorpresa vederlo a Sanremo Sanremo che vinse con Mauro Pagani in piedi, proprio orgoglioso è lui che mi ha fatto il provino anche nel 2016 è lui che mi ha aiutato a firmare il primo contratto a Mauro Pagani perché lui aveva chiamato La Potente è stata appunto la mia prima discografica e gli fa guarda ascoltati questo ragazzo è appena passato ad Aria Sanremo così e allora Sara si è andata ad ascoltare il mio pazzo